Un cordiale saluto da Federico Grasso e ben ritrovati con il meteo di Arpal. Quest'oggi sulla Liguria, temporanea pausa precipitativa su tutta la regione e attenuazione dei venti da nord e sul centro e sul ponente. Dal pomeriggio un nuovo rinforzo dei venti da sud ovest a cominciare dal ponente. In serata saranno di burrasca con raffiche di burrasca forte sui rilievi e sui capi esposti. Il mare è agitato, aumenterà fino a molto agitato, grosso a largo per onda lunga formata da sud ovest. Ci aspettiamo infatti una mareggiata su tutta la costa intensa sul centro del Levante per questa serata la notte e la prima parte della giornata di domani. Quest'oggi temperature ancora fredde con le massime in costa comprese tra 6 e 11 gradi nell'entroterra tra meno 1 e più 7. Domani, martedì 29 dicembre, un persistente intenso flusso di libeccio determina piogge diffuse sul Levante. Localmente sarà una carattere di rovescio temporale. Dureranno per buona parte della giornata. Sul resto della regione un cielo molto nuvoloso con qualche schiarita più decisa a ponente. Venti da sud ovest con intensità di burrasca a ponente, forti sul centro Levante in lento calo. Dal pomeriggio entrerà ancora vento da nord ovest sul centro ponente. Mare fino al mattino ancora molto agitato con mareggiate diffuse anche intense sul centro Levante. Dal pomeriggio moto ondoso in progressiva scaduta fino a molto mosso, localmente agitato. Attenzione all'allerta gialla dalle 6 alle 18 sull'area C, quella che va dal monte di Portofino al confine con la Toscana, per i grandi bacini dovuta all'azione combinata delle precipitazioni diffuse, dello stato di saturazione del suolo e della fusione delle nevi in quota. Le temperature infatti andranno rialzandosi, valori massimi in costa compresi tra 9 e 14 gradi nell'entroterra tra 1 e 13, minime interne tra meno 5 e 6 in costa tra 6 e 10 gradi. Mercoledì 30 dicembre, il penultimo giorno dell'anno, vede il transito in quota di deboli ondulazioni che mantengono ancora condizioni di variabilità con possibilità di qualche debole piovasco a Levante, ma tornerà a fare il capolino il sole in buona parte della regione seppur frammisto a cielo parzialmente coperto. I venti sono da nord moderati sul centro ponente e deboli altrove. Il mare è molto mosso in calo a mosso in serata e a ponente. Temperature minime in calo con valori in costa compresi tra 1 e 7 gradi nell'entroterra tra meno 2 e 5, massimi in generale aumento con valori interni racchiusi tra 3 e 14 gradi lungo la costa tra 10 e 14. Ricordandomi con i dettagli sul meteo Liguria è consultabile sul sito www.arpal.liguria.it, sulla pagina facebook e sugli altri social dell'agenzia. Io vi auguro una buona giornata, a risentirci!